Ma a me ha colpito una frase che hai detto pochi istanti fa in televisione perché hai detto se arrivasse Antonio Conte io sarei contento. È una frase che dimostra la tua signorilità anche in un momento in cui magari anche tu puoi giocarti le tue chance per una conferma. Ma io non guardo a me stesso, io guardo al bene della Roma. Quando mi si parla di Antonio Conte, tanto di cappello. Lo vado a prendere all'aeroporto. Grazie.